Direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Un saluto a chi si sta connettendo a questo incontro organizzato dall'Unione Associazione Italia e Israele, ma direi a questo punto anche da tutti gli amici sostenitori dello Stato ebraico e questo evento organizzato anche dall'Associazione 7 ottobre e a questo incontro sono presenti numerosi amici che fanno parte delle varie sigle del grandissimo mondo degli amici di Israele, di tutta Italia. Abbiamo fortemente voluto organizzare questa serata in supporto al nostro Marco Carrai, che è console onorario di Israele in Italia, dimostrare a lui il supporto come console ma anche come amico di ciascuno di noi perché abbiamo visto tutti l'odioso attacco personale e anche istituzionale del quale è stato oggetto in questi giorni. In particolare vorrei ricordare la vicenda. Il console Carrai è stato oggetto della richiesta di alcune dimissioni da parte dei dipendenti dell'ospedale Mayer e in particolare sono state richieste le sue dimissioni dalla presidenza della fondazione Mayer per il solo fatto di essere console dello Stato ebraico in Italia, di essere amico di Israele in Italia e oggi abbiamo visto tutti come l'antisemitismo e soprattutto l'antisionismo rappresentano la faccia, una faccia della stessa medaglia. Quindi ecco, noi abbiamo veramente sentito forte il desiderio di esprimere all'amico e al console il nostro totale ed incondizionato supporto. Sentivamo veramente il bisogno di farlo e vedo che stasera siamo veramente tanti, che si collegano, tanti amici che si collegano da tutte le parti d'Italia e quindi a questo punto io vorrei direttamente mostrarvi, passare la parola a Marco, però prima di questo ho il piacere di dirvi che oggi pomeriggio l'ambasciatore a Lombar ci ha fatto per venire un video di saluto e quindi prima di passare la parola al console ci tengo particolarmente a mostrarvi il video dell'ambasciatore a Lombar, quindi se mi date un momento io condivido il mio schermo. Shalom a tutti, ringrazio le UAI e l'organizzazione 7 ottobre per questo incontro di solidarietà con il Consul Onorario di Israele e amico Marco Carai. Come ho scritto una settimana fa, gli attacchi al Consul Onorario di Israele sono fondati sul odio verso Israele e sul tentativo di delegittimare tutto ciò che è associato a Israele. Cercare di impedire a un libero cittadino italiano di svolgere i propri incarichi solo perché difende il sacrosanto diritto dello Stato di Israele a esistere e a difendersi è davvero inammissibile. Le cose che dice l'amico Marco sono state dette anche da molti altri politici e altre personalità pubbliche italiane. L'accanimento solo contro di lui è quindi chiaramente dovuto al suo legame con Israele. Fate bene quindi a denunciare questa strumentalizzazione e questo tentativo di persecuzione politica. All'amico Marco Carai, che saluto e ringrazio personalmente, rinnovo tutta la nostra solidarietà e la nostra fiducia. Grazie a tutti voi partecipanti e buona serata. Comunque mi sembra che siano state chiarissime le parole dell'ambasciatore e vorrei richiamare il nostro Marco a commentarle un attimo. Grazie. Prima di tutto grazie Celeste di aver pensato e organizzato questa cosa. Grazie a tutti voi che partecipate. Per me è un onore. Sono veramente onorato e permettetemi anche un po' commosso di quello che avete fatto. Perché l'altro giorno non vi sono venute meno le mie parole dove denunciavo una solitudine non tanto dagli amici ebrei, ma dalle istituzioni che per pavidità talvolta hanno paura a stare dalla parte del giusto. Cioè perché la paura di dire ok, ma se difendiamo allora vuol dire magari che siamo contro il popolo palestinese che non c'entra proprio nulla in questa cosa e quindi tendono a stare purtroppo sempre un po' su due staff. Ma il suo staff è non prendere posizione. Quindi ecco, il mio richiamo è rivolto a loro e non certamente alle associazioni Italia-Israeli, a tutti gli amici di tutte le comunità, all'amico ambasciatore e a tutta l'ambasciata che costantemente mi sono vicine, mi informano e mi aiutano in questo costante lavoro che io sento di fare, ho il dovere di farlo per l'esistenza, il diritto dovere di Israele esiste e che oggi nuovamente è venuto meno. C'è un punto che è il punto chiave e tu l'hai detto, l'ambasciatore in parte lo ha detto, noi l'abbiamo letto, che la nuova forma di antisemitismo è l'antisionismo perché si tende a voler dividere, a dividere talvolta purtroppo anche magari partiti o comunità dicendo ma noi non ce l'abbiamo con il popolo ebraico, ce l'abbiamo con i sionisti, non capendo tendenzialmente che come dire Sion, quindi Israele, è il popolo ebraico. Chi non sa questo non capisce nulla di storia ebraica e soprattutto non capendo un'altra cosa, che Israele peraltro è stata voluta anche dalla comunità internazionale, dall'ONU, come, fra virgolette, riconoscimento dopo i millenni di persecuzione culminati nella Shoah. Ma questo riconoscimento oggi sembra quanto mai di più un essersi voluto lavare la coscienza, ok, vediamo quel pezzo di terra così li abbiamo accontentati, però come dire che non rompano troppo, stiano lì eccetera. E quel lembo di terra che invece lo spirito, l'iniziativa, l'intraprendenza del popolo, del libro ha fatto diventare un giardino, oggi è paradossalmente un luogo dove non si sentono al sicuro. Io mi ricordo quando ho partecipato alla Sinagoga di Milano all'anniversario di un mese, il 7 novembre del 7 ottobre, che c'erano le testimonianze di due ragazzi che erano sempre avvissuti al massacro nel Kibuzzi durante la festa e uno dei due disse, mentre scappava, disse «Non ci sentivamo al sicuro neppure lì». Ecco, il non sentirsi al sicuro neppure in Israele è una cosa che fa molto male, perché neppure lì, dopo millenni di persecuzioni e dopo la Shoah, che è stata tremendamente macchiata questo 27 gennaio, che non è tanto la festa del popolo ebraico o la ricorrenza al popolo ebraico, ma è un cardine sostanziale della storia dell'Italia e dell'Europa, perché, come diceva poc'anzi il Rav Piperno, sono qui appunto in comunità a Firenze, ha una scena in mio sostegno, se non si capisce che le civiltà vanno avanti perché incardinate in radici nella storia e nelle tradizioni come appunto il popolo ebraico decadono. Ecco allora che questo accanimento contro la mia persona per il solo fatto di essere console di Israele è una cosa che rimanda senza tanti paradossi e senza tanti giri di parole agli anni venti, quando la sola appartenenza al popolo ebraico, in questo caso si traveste appunto da Israele, questo anti-sionismo, tu non puoi far parte di alcune cariche. E io, come dire, ho le spalle grosse per difendermi da solo, ho i mezzi, però penso a tanti di quelli che non hanno le spalle grosse. Vedete, io due giorni fa ho portato la mia bambina più piccola al Meier, in ospedale, perché aveva un problema poi che si è risolto e nulla di fatto. E lei, ho pensato parerossalmente, ma chissà magari se uno di quei medici o dell'infermeria in questo momento sta visitando la mia bambina non sia una di quelli che hanno firmato, peraltro sono stati pochi quelli che hanno firmato del Meier, sono stati medici di altri ospedali di Firenze, poi sono stati centri sociali, eccetera. Mi sono arrivate 10.200 film e ho visto chi sono, nomi molto conosciuti, non soltanto per l'antisionismo in Italia, ma per anche altre cose che poi si concentra tutto lì. Mi sono detto, sarà uno di quei medici? Come guarderà la mia bambina? Ecco, allora mi viene incontro, ritorno al pensiero degli anni venti, degli anni trenti, degli anni bui, che ancora oggi possono ritornare. E il passato non è passato del tutto, mai. E poi, lo dicevo poc'anzi, due esperienze ho vissuto. La prima è il figlio di un mio carissimo amico che ho ritrovato all'interno di quelle firme. E io sono rimasto sorpreso. E quindi ho scritto a questo mio amico, ho detto, guarda, non è che tu gli debba dire qualcosa, ma cerca di capire come mai uno che è mediamente istruito, o di una media buona famiglia. Qual è il motivo recondido, andando in social network naturalmente, per cui lo porta a firmare una petizione contro un amico di suo padre, ben conosciuto, ben stimato, e anche ben amico e ben amato. Per quale motivo? Qual è quell'ancestrale motivo socio-culturale di odio che lo porta a fare un gesto come questo? E poi un messaggio che ho mandato ieri a un noto professore, commentatore televisivo, che io conosco bene, e gli ho detto, ma non mi aspettavo di trovare anche la tua firma lì. E lui mi fa, guarda Marco, niente di personale, però sai, il tuo ruolo da consul israele non si addice in questo momento, davvero, ecco, quel niente di personale è una cosa che sembra una cosa amichevole, invece di una brutalità pazzesca, perché è come se appunto durante le leggi razziali il mio vicino di casa amico mi avesse bussato alla porta perché dovevo nascondere e gli avessi detto, guarda, niente di personale, però sai, non ti posso nascondere. Quindi, tutti questi punti mi fanno dire che in tanti mi chiedono per quale motivo te lo fa fare, di esporti, ma tantissimi, me lo dice con grande bontà e grande, in questo caso vera, il sindaco della mia città, il quale mi schiede, Marco, ma pensa alla tua famiglia, cioè io lo so che tu vuoi tanto bene a Israele e lui, peraltro, è anche filo israeliano, quindi, a scanso di equivoci, però chi te lo fa fare di esporti così tanto? E la risposta è molto semplice, me lo fa fare il diritto, dovere della nostra storia di esistere, perché Israele, il popolo ebraio, peraltro mia moglie si sta anche convertendo, ma noi a questo punto, è la nostra storia e non ci possiamo girare dall'altra parte. Girarci dall'altra parte vuol dire disconoscere chi siamo, dove andiamo, vuol dire nuovamente far ritornare quella storia che pensavamo fosse stata sepolta nei secoli, vuol dire, come dice Nella Segre che il 27 gennaio è tutti i giorni non lo riconoscere. Ecco allora che, come dire, in momenti come questo, nella scena, in questo momento, io sono grato a Celeste Pini, alle associazioni Italia e Israele e l'associazione del 7 ottobre, non so se la mia Stefano Parisi è già collegata. Sì, sì, si è collegata poco fa. Stefano, io vi sono grato perché noi non dobbiamo smettere di dirlo sempre e comunque, perché saremo Vox Clamance in deserto, ma comunque una vesce alla fine rimbomba, perché altrimenti, come dei social noccio, sono pervasi da questo odio e bisogna dirlo in tutte le istituzioni. Io posso anche, Fabricoletta, essere lasciato solo perché ho le spalle grasse e non lo sarò mai, lo so, grazie a voi, ma ci sono tante persone che vivono nella paura che invece di essere la figlia del presidente del Meyer che va lì e quindi, come dire, hanno una certa, no, comunque sempre la figlia del presidente del Meyer, è la figlia magari di un ebreo che arriva con con i Tallinn, eccetera, e la guardano male. Siamo al paradosso. Io ho scritto l'altro giorno al mio sindaco, io non mi sento più cittadino a casa mia. Ma tu esagilo. Ah, non esagilo. Non mi sento più cittadino a casa mia. Il mio amico imam, amico, amico splato, sed magis, amica veritas, diceva Ciceroone, al quale ho trovato personalmente la nuova moschea perché il sindaco e il prefetto mi hanno detto dacci una mano perché succede un problema sociale. Ho chiamato l'amministratore delegato del Banca Intesa e in tre giorni gli hanno dato la sede il quale partecipa alle manifestazioni dove si danno i volantini ai centri sociali per chiedere le mie dimissioni da presidente del Meyer. passiamo alla follia e la follia è il silenzio che avvolge queste cose. Quindi non posso dirvi grazie e come dire io ci sono per tutto perché non mi metteranno mai a tacere se vogliono mettere a tacere devono utilizzare altri mezzi e spero non ci arrivino mai ma di sicuro la bocca non me la chiudano. Grazie veramente a tutti voi. Marco veramente invece grazie a te noi siamo sempre e saremo comunque al tuo fianco e mentre tu parlavi peraltro avevo qua sotto mano perché lo leggevo oggi leggevo le leggi razziali ok e l'articolo 13 delle leggi razziali diceva non posso ve lo leggo non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica amministrazioni provincia amministrazioni delle aziende municipalizzate enti parastatali associazioni sindacali ecco nessuno di noi dico nessuno si sarebbe mai sognato nel 2024 di ritrovarsi di fronte agli stessi fatti alla stessa vile vile riproposizione della storia e quindi noi dobbiamo assolutamente rimanere compatti uniti e continuare a denunciare ciò che accade e stiamo veramente riassistendo alle più schifose accuse di crimini del sangue dei scidi proprio è stato riproposto il peggior repertorio dell'antisemitismo oltre a quello più moderno oggi dell'antisionismo che vuole negare il diritto di Israele a resistere difendersi e così via io ora non voglio parlare più voglio dare la parola all'amico Marco Parisi perché molti di voi giustamente vogliono e devono esprimere il loro sostegno a Marco Stefano Parisi ci sei? Ti ho visto prima? Ci sono ecco prego grazie grazie a te per essere organizzato questo e grazie a te e grazie a Marco per la forza con cui ha fatto questo suo intervento adesso e per e per la forza con la quale continua a combattere e non sottostare a queste minacce hai detto cose molto importanti come ha detto giustamente Celeste Vicky che questo è un si rifà alle leggi razziali queste sono le leggi razziali dove non si potevano non si poteva si fa perdere il posto di lavoro a chi era ebreo a chi fosse connivente con gli ebrei ma quello che più preoccupa non tanto che ci siano degli idioti che firmano un documento vabbè quello è niente ma è l'ambiguità il silenzio o chi te lo fa fare che fa paura perché che ci siano degli idioti ci saranno sempre in un paese libero come il nostro 60 milioni di abitanti che ci siano un po' di idioti ci sta e ignoranti ma è il grande enorme spaventoso silenzio ambiguo che c'è intorno alla questione di Israele che fa paura noi siamo nati per questo non siamo nati solo ovviamente come 7 ottobre perché il 7 ottobre ci ha fierito profondamente nell'animo nella storia nell'intimo nelle famiglie ma perché ci ha spaventato la reazione che ci ha stata al 7 ottobre l'onda pazzesca di antisemitismo il capovolgere completamente la storia per cui Israele viene viene portata alla Corte Internazionale di Giustizia invece di portare Hamas e che la Corte Internazionale di Giustizia addirittura si rivolge ad Hamas dicendoli liberate gli ostaggi cioè la Corte Internazionale di Giustizia si è rivolta a un'organizzazione terroristica militare dandogli delle indicazioni cioè stiamo parlando di una cosa ora ho finito da poco un confronto per questo sono arrivato un po' tardi sulle questioni medio orientali e sulla fratellanza musulmana dove il giudice Penisi Roberto Penisi che è in pensione che in passato ha lavorato molto sui temi del terrorismo islamico racconta come ci siano a livello europeo due pesi due misure con cui sono stati affrontati la Jihad che è stata affrontata con un coordinamento di tutte le forze di giustizia e istituzioni giudiziarie a livello europeo che hanno fatto un coordinamento per andare ovviamente a perseguire i reati e i potenziali reati della Jihad e come tutto questo non avviene con Hamas e sono uno o l'altro sono due organizzazioni terroristiche militari che stanno che sono perseguibili per quello che stanno facendo e i due pesi e due misure sono il fatto che Hamas sta colpendo gli ebrei e quindi lasciamoli impostare guardate che è così ed è profondo l'antisemitismo è molto più profondo di quanto noi non non misuriamo con le manifestazioni di quegli idioti le manifestazioni sono apologia di reato quando un ragazzo a Milano tira fuori il cartello che dice free Gaza from Hamas che dovrebbe essere l'ordine del giorno di qualunque manifestazione per i palestinesi se io sono amico dei palestinesi dico togliete Hamas di mezzo per salvarli non solo è stato travolto dai fischi eccetera eccetera ma la polizia è salita a casa sua e la perseguire come si dice è andato sì l'ha minacciato gli ha detto di togliere quella roba di mezzo cioè stiamo parlando e quella è apologia di reato cioè inneggiare a Hamas che ha fatto il 7 ottobre è apologia di reato allora veramente c'è un capovolgimento incredibile su cui dobbiamo assolutamente lavorare cioè ma non soltanto scusate lo dico perché ci sono tanti ebrei che stanno collegati con noi oggi non è soltanto un problema di testimonianza degli ebrei questo è un problema che riguarda tutto l'Occidente non riguarda solo gli ebrei cioè noi dobbiamo capovolgere completamente la storia dobbiamo fare un reset della dell'Occidente dobbiamo ristabilire i nostri valori per tutti non soltanto per gli ebrei perché gli ebrei sono la punta di diamante ovviamente del mondo occidentale per tanti motivi Israele è il paese credo che Marco e io condividiamo e chissà quanti altri di voi è un paese non è solo l'avamposto è un paese a cui noi aspireremo lì c'è l'ascensore sociale lì c'è perché in Israele ci sono più di due figli per famiglia e qua c'è 0,8 eppure qui c'è molto ma molto ma molto meno precariato che non in Israele pensate al precariato quei missili che ti cascano dal cielo perché lì c'è uno spirito forte c'è la voglia di andare avanti c'è la voglia di combattere come c'è stata sempre dagli ebrei con tutti i problemi che hanno avuto allora o noi capiamo che dobbiamo capovolgere completamente l'approccio che abbiamo non dobbiamo soltanto denunciare dobbiamo tirarsi sulle maniche e fare obbligare la politica a prendere decisioni per quale motivo l'Italia oggi non è a fianco alla Germania all'Aia per sostenere Israele all'Aia abbiamo gli stessi identici dovremmo teoricamente avere gli stessi identici sensi di colpa che hanno i tedeschi eppure i socialisti tedeschi stanno all'Aia e la destra italiana non va all'Aia pur avendo io personalmente personalmente spinto e sto continuando a spingere tutti i giorni sul governo italiano perché faccia quello che hanno fatto i socialisti tedeschi eppure guardate la mozione che è stata presentata dal PD al Parlamento italiano allora e guardate non so quello che ha detto Borrell oggi sul L'Urwa cioè siamo veramente in una situazione drammatica non ci rendiamo conto che qui siamo questa è la fine dell'Occidente non è solo la fine di Israele allora noi credo che questo lavoro lo dobbiamo fare non solo ovviamente per solidarietà per Marco ma soprattutto perché Marco deve diventare come tante altre vicende che ci sono una bandiera della nostra libertà e quindi grazie Marco se ti rendi disponibile ma penso che noi dobbiamo proprio proprio lavorare su questo in modo esplicito forte fuori non soltanto fra di noi dobbiamo andare io vedo guardate io penso che il 7 ottobre lo dicevamo l'altro giorno a Milano il 7 ottobre tanti di noi si sono sentiti soli io ho rotto molte amicizie non solo amicizie anche purtroppo anche vicende di familiari perché il giorno dopo chi ha detto sì però Israele sì però se la sono cercata e quanti di noi si sono sentiti soli il giorno dopo e perché oggi il 7 ottobre sta avendo tantissima gente che viene che si iscrive che viene alle nostre cose eccetera perché non dobbiamo stare più soli dobbiamo stare insieme dobbiamo sentirci legati e sapere che dobbiamo fare una battaglia perché dobbiamo capovolgere quello che è successo da tantissimi anni non da ieri purtroppo da 30 40 50 anni nel nostro paese in Europa questa ambiguità continua verso questa cultura sperando che con l'ambiguità si potesse in qualche modo evitare scontri abbiamo fatto poche ore fa mezz'ora fa un'analisi dei flussi finanziari con Alessandro Delval verso i fratelli musulmani che i governi europei sanno benissimo cosa dovrebbero fare per fermare il terrorismo sono tutte ricette chiare noi oggi dovremmo stare a combattere a Gaza con i nostri ragazzi come ci sono i ragazzi israeliani che stanno lì perché quelli combattono con la nostra libertà e i nostri giovani dovrebbero stare lì non a fare le manifestazioni pro palestinesi invece il problema di Gaza è un problema degli israeliani tutti alzano un sopracciglio dicendo eh però state attenti non ne ammazzate troppi non c'è un morto ebreo o arabo o palestinese che è morto dal 7 ottobre compreso in poi che non sia da caricare sulle spalle di Hamas tutti sono responsabilità di Hamas anche quelli che stanno purtroppo uccidendo l'esercito israeliano perché questi topi nelle fogne si mettono sotto terra e si nascondono sotto i civili giovani donne bambini vecchi che stanno lì che sono il loro scudo di cui loro se ne fregano perché per loro morire è essere eroi loro sono imbevuti di odio e l'odio toglie la libertà e dobbiamo dirlo ai nostri giovani che con l'odio si perde la libertà e l'odio che i nostri giovani ventenni diciottenni che stanno nelle scuole che si bevono stupidaggini sui social falsità sui social che non sanno manco qual è il mare e qual è il fiume quando dicono dal fiume al mare quei ragazzi là dobbiamo aiutarli a uscire fuori dall'odio dobbiamo andargli a parlare a spiegarglielo dobbiamo fargli venire il dubbio che forse stanno dicendo una stupidaggine però non possiamo stare fermi dobbiamo muoverci dobbiamo assolutamente sotto ognuno per le sue capacità dobbiamo fare squadra stare insieme stare uniti sentirci uniti perché è una battaglia durissima una battaglia durissima nessuno mai mai avrebbe pensato nella mia vita di dover difendere Marco Carrai scusa Marco lo dico lo dico ci hai avuto altri rischi ma quelli sono diciamo più italiani da questo rischio non pensavo di doversi difendere invece doversi difendere da questo vuol dire arrivare veramente a toccare il fondo dobbiamo credo lavorare molto insieme e dobbiamo rimanere molto uniti grazie ancora grazie grazie a te Stefano Parisi grazie per averci ricordato veramente stiamo vivendo un momento epocale anche della nostra storia abbiamo due fronti aggiungerei due fronti difficilissimi uno che è Israele che è un pezzo di noi un pezzo di Occidente ma non mi dimenticherei neanche dell'Ucraina in questo senso e quindi veramente è il valore occidentale della libertà dei diritti delle democrazie liberali contro le autocrazie le oligarchie e via dicendo e le teocrazie religiose e così via io passerei la parola a Deborah Faith che si è collegata con noi da Gerusalemme Deborah se vuoi accendere il tuo microfono hai la parola pregherei i nostri ospiti magari ecco di non prendere più di 3-4 minuti in modo tale da consentire un po' a tutti di parlare e di esprimere la propria vicinanza al console Carrai grazie Deborah buonasera a tutti io vivo a Rehobot che è a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme e cosa devo dire la guerra è brutta noi soffriamo molto proprio l'altro ieri c'è stata un'altra grandine di missili su tutto il centro di Israele compreso qua dove vivo io ed era qualche settimana che non sparavano più fino a qui al sud sparano sempre però per arrivare a Tel Aviv c'era qualche settimana che stavano fermi improvvisamente l'altro ieri hanno ricominciato però io ho fatto un ragionamento qui non siamo allegri e quello che è successo il 7 ottobre sarà una ferita per Israele e per la maggior parte degli ebrei del mondo che non si rimarginerà mai è stata una cosa al di là di ogni immaginazione voi lo sapete benissimo ma quello che a me fa più paura è l'odio che ci avvolge l'odio del mondo che ci avvolge questa è la cosa più terrorizzante perché Israele saprà sempre difendersi col nostro esercito noi ci difenderemo sempre nonostante le vittime nonostante i morti anche tra i nostri soldati ma l'odio l'odio che c'è mi fa veramente impressione prima Marco parlava del figlio del suo amico io carissime amiche in Italia ancora della scuola degli elementari e la figlia di una mia amica che mi chiama zia da quando è scoppiata la guerra che Israele dopo il 7 ottobre per un mese è stata bombardata ogni giorno ogni giorno noi dovevamo correre in rifugio anche più volte di ogni giorno beh questa ragazza che mi chiama zia non mi ha chiesto una volta zia come stai è sparita dalla circolazione e l'ho vista nascere l'ho tirata su io praticamente questo è quello che ci che ci troviamo intorno io non ho paura di stare in Israele anzi non andrei mai via di qua però ho paura quando i miei figli il mio figlio e i miei nipoti vengono in Italia è impressionante però quando so che loro sono in Italia io ho paura dico parlate in inglese se vedete qualcuno sospetto non parlate in ebraico siamo arrivati a questo punto non so a cos'altro dire grazie 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 Deborah per per averci portato queste parole questa tua testimonianza e passerei la parola ad Angelo Pezzana Angelo si si sente si si ti sentiamo puoi anche attivare il tuo video perché non ti vediamo vabbè comunque volevo solo ricordarvi che un famoso filosofo italiano l'altro giorno al al teatro parenti si chiama Umberto Galimberti ha scritto è salito sul sul per parlare al microfono e ha detto ansemita non vuol dire antiebreo si sono sono semiti anche i palestinesi gli arabi i turchi gli arbeni concludendo con queste parole cominciamo a diluire il concetto di semita sarebbe una cosa buona se gli ebrei riducono un po' la loro identità perché allora comincia la possibilità di dialogare il dialogo comincerà solo se ciascuno indebolisce se stesso ecco il consiglio di un famoso filosofo italiano e poi ci chiediamo gli studenti liceo università quando si sentono dire che gli ebrei devono indebolire il loro stesso essere ebrei e questo è Umberto Galimberti che scrive sui nostri giornali più diffusi e poi ci chiediamo perché i giovani ragionano così questo è pazzesco pazzesco quindi è viva chi aiuta in questo momento chi è in prima fila grazie Angelo e passerei a questo punto la parola a Cristina Franco presidente dell'Associazione Italia Israele di Savona per un saluto Cristina l'ho vista prima vabbè dopo si ricolleguerà allora passo la parola a Bruno Spinazzola dell'Associazione Kenabuera di Cagliari ci tengo particolarmente a ricordare che qui siamo tutti amici che non contano le sigle delle associazioni siamo tutti uniti quindi Bruno buongiorno a tutti ti ringrazio Celeste dell'invito abbiamo anche seguito i diversi eventi organizzati da 7 ottobre insomma sicuramente è rassicurante di vedere che alla fine comunque ci si trova una certa unità sul fronte perché il fronte si allarga tocca a tutti noi eravamo anche all'insediamento di Marco Carrai a Firenze che era un bellissimo un bellissimo evento e niente sono dei momenti sono dei momenti ne abbiamo detto tutti abbastanza bene c'è poco da aggiungere sono dei momenti abbastanza incredibili in un ritorno della storia nessuno avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere una cosa è di leggerlo in un libro succede nel 1936 poi un giorno incominci a vedere le stesse cose che incominciano a crescere con i stessi meccanismi questo è veramente impressionante è vero che la storia non si ripete si ripete diversamente evidentemente le bandiere cambiano non c'è più la svastica adesso c'è la bandiera del Hamas ma insomma siamo passati dal rosso al verde ma le azioni e gli eventi sul retro front che siamo noi alla fine si sviluppano quasi nello stesso modo io sono sempre impressionato e finiremo semplicemente su questo sono sempre impressionato di vedere come Israele è attaccato per i suoi pseudo crimini di guerra perché alla fine Marco Carai è attaccato se si legge le loro scuse perché in un certo senso è un rappresentante di un paese che fa dei crimini di guerra e ogni volta sto lì e mi ricordo mi ricorda come hanno curato in prigione il cancro al cervello di Yaya Sinwa allora a qualche parte c'è un clash e vorrei veramente a un certo momento arrivare a far tornare un pochettino di onesta razionalità nel nostro mondo di quello che vedo proprio sgretolarsi attorno a noi vorrei chiedere a Marco quale sarà l'andante delle richieste di dimissioni una cosa che così vorrei sapere anche comunque un grazie a tutti e un saluto ma guarda ti rispondo subito la mia risposta è stata molto semplice io ho collaborato e coordinato e promosso il fatto che alcuni piccoli bambini di Gaza venissero curati e sono arrivati due giorni fa di notte nell'ospedale Meyer di Firenze e quindi come dire il paradosso arriva ancora più grande cioè il console di Israele gli ha chiesto le dimissioni dell'ospedale dove ha portato i bambini palestinesi a farsi curare mi viene in mente quella signora anziana che tutti i giorni andava a Gaza e portava le persone a curarsi in ospedale israeliani che è stata rapita e che è ancora ostato se non è morta non ricordo da parte di amico ecco questo è il paradosso a cui siamo arrivati quindi io non mi rimetterò mai perché come dire vorrebbe dire dar la vinta a coloro che sono dalla parte sbagliata della storia ringrazio e volevo solamente dirti è stata liberata è un'amica di famiglia in Israele dunque quando questa cosa è successo è stato saluti tutti di noi ecco ecco qua grazie bene grazie Bruno intanto porto i saluti di Cristina Franco che si è scollegata perché è febbricitante comunque vi saluto allo stesso Alessandro Bertoldi presidente dell'associazione Alleanza per Israele e anche direttore esecutivo dell'istituto Friedman a questo punto passerei la parola al professor Antonio Donno presidente dell'associazione Italia Israele di Lecce Antonio Antonio Donno è muro eccolo ecco non c'è molto da aggiungere di fronte ai fatti del 7 del 7 ottobre la mia associazione si è rivolta al sindaco di Lecce per poter avere una dichiarazione di sostegno di sostegno alla posizione di Israele e la nostra associazione concorde perfettamente concorde noi stiamo facendo un po' di attraverso attraverso i computer una diciamo così una politica un'azione di diffusione delle nostre posizioni e delle posizioni di Israele rendendo facendo capire che la risposta di Israele è una risposta perfettamente adeguata all'attacco del 7 ottobre che ha visto macellare 1200 1200 ebrei e quindi è stato necessario e noi approviamo incondizionatamente l'ingresso dell'esercito israeliano a Gaza finché Gaza non sarà riponita completamente da Hamas cosa difficile ma deve essere assolutamente fatto dopo di che si parlerà poi della della sistemazione politica istituzionale di Gaza su questo c'è un dibattito che è iniziato non so dove porterà però per intanto la ripulitura deve essere effettuata in maniera precisa precisa fino all'ultimo terrorista grazie grazie Antonio conveniamo anche noi non possiamo non convenire su questo passo la parola a Bini Giovanni presidente dell'associazione Italia Israele di Napoli Giovanni Giovanni se ci sei batti un colpo vabbè per il momento no allora passerei la parola invece a Chisciore Bombaci presidente dell'associazione di amicizia Italia Israele di Firenze Chisciore sì eccomi buonasera di nuovo a tutti vorrei portare naturalmente l'amicizia dell'associazione Fiorentina Amici di Israele a Marco Carrai che invitiamo naturalmente a non retrocedere di un millimetro e non non darla vinta a colori quali hanno organizzato e stanno portando avanti questa campagna infamante che non che non esito a definire antisemita senza altre ulteriori aggettivazioni vorrei sottolineare che quello che sta accadendo oggi a Marco in realtà è la punta l'ultimo episodio di una serie di eventi che ha visto la nostra città teatro di questo antisemitismo galoppante perché siamo la città dove pochi giorni fa è stata organizzata un'altra manifestazione di medici con il pretesto della solidarietà alla ai medici di Gaza perché è la città dove una sede provinciale dell'Ampi ha organizzato un voleva organizzare un evento in cui si equiparava la Shoah a quello che sta accadendo a Gaza e potrei e potrei continuare siamo di fronte quindi a un clima pericoloso che investe la nostra città che e su questo sono un po' meno tenero dell'amico Marco Carrai con le istituzioni a mio giudizio viene sottovalutato dalle istituzioni e dall'amministrazione comunale non dimentichiamoci che siamo la città dove ci sono state polemiche sull'esposizione della bandiera di Israele nei palazzi istituzionali e dove poco dopo invece è stata organizzata una manifestazione in cui strumentalizzando il concetto di pace si è fatto a nostro giudizio ben altro noi siamo convinti che non c'è pace se non c'è giustizia e quindi naturalmente non abbiamo condiviso quell'evento quindi un saluto e un abbraccio forte a Marco Carrai non retrocedere di un millimetro grazie 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 a te grazie grazie Fischore e a questo ho visto che prima si era aveva aperto il microfono vieni Giovanni Giovanni ci sei? buonasera sì ci sono da un toscano trapiantato a Napoli ti dico non molliamo ma non molliamo né a Napoli né altre parti quindi cercano cercano ma non ce la faranno a Napoli abbiamo tante manifestazioni abbiamo visto di solidarietà ma centri sociali per fare i numeri chiamano i centri sociali qua non è contro Israele qua è contro il sistema stanno utilizzando l'ebreo perché l'ebreo va bene per tutte prezzemolo come si dice a Napoli per ogni minestra quindi si coalizzano con un'idea vista che è una sinistra inesistente per cui Marco non so che dirti hai le spalle grandi quindi qua hai il nostro sostegno anche guarda veniamo in pullman da te quindi mi raccomando buona serata noi riteniamo dal lungo tempo nell'associazione che per questo motivo sia necessario avere e arrivare una legge e stasera non c'è stato tempo io non ve ne ho non ve ne ho parlato ma ritengo ritengo questo che è importante anche dirvelo che come associazione in questi anni abbiamo molto lavorato sulla definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembers Alliance abbiamo spinto che fosse adottata nei comuni antilocali regioni e la scorsa settimana per chi ci ha un po' seguito il vice presidente del consiglio Salvini ha depositato su nostro impulso devo dire un progetto di legge che introduca come legge nell'ordinamento italiano la definizione di antisemitismo Aira è un primo passaggio in modo tale che questa definizione finalmente riesca a diventare cogente perché inserisce tutta una serie di indicatori che risolverebbero e che aiuterebbero molto a risolvere il problema quindi io e questo perché perché chiaramente con persone di questo tipo non si riesce ad ampliare un dialogo e instaurare un dialogo ormai ci sono delle posizioni talmente preconcerte lo abbiamo visto ne abbiamo parlato lo ha detto prima Marco le posizioni antisemite sono qualcosa anche di ancestrale di arrettivo che ritorna anche ciclicamente in ragione di crisi economiche epocali e via dicendo oggi questa forma è data dall'antisionismo e quindi riteniamo a tal punto che sia giusto avere una legge una legge che in modo dirimente risolva il problema noi non vediamo altro tipo di alternativa se non quella della legge che abbia un suo aspetto anche di cogenza posso dire è una cosa fresca di due giorni fa è passata la definizione AIRA dopo tre anni che abbiamo lottato e finalmente è stata accolta ci sono naturalmente delle voci contrarie che sono pronte a combattere tra parentesi il tre prossimo credo sì prossimo sabato ci sarà una manifestazione proprio per la protesta che il comune ha adottato eccetera 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 tra le altre cose degli amici della Palestina quindi anche noi l'abbiamo adottata proprio in questi giorni e niente volevo solo dire questo guardate è bello è importante cioè è importante come passo politico ma non risolve la questione no no come non risolverà la legge ma scusi la commissione segre cosa dovrà fare poi la commissione segre infatti è rimasta una commissione che ha elaborato delle proposte ma nessuna di queste commissioni in realtà è mai arrivata a depositare un vero e proprio progetto di legge sull'antisemitismo e questa è la differenza sostanziale perché finché continueremo a parlare di relazioni e le relazioni sì esattamente giusto lasciano il tempo che trovano qui serve una legge che ponga un grimaldello che ponga una base che sia una base una base una pietra angolare sulla quale poggiare senza la legge non c'è non c'è alternativa assolutamente io posso intervenire io penso questo che le cose preoccupanti non è tanto quel provocatore che è venuto qua solo con l'intento di provocare ovviamente Carrascio l'ha fatto capire chiaramente a me devo dire a parte il fatto che mi dava fastidio fisico ascoltarlo ma insomma questo è un altro discorso a me ha preoccupato molto di più quello che ha detto Carrai riguardo al sindaco un sindaco di una città come Frenze che si propone tante belle cose che vuole emulare la Pira non può permettersi di dire una cosa del genere a Carrai secondo me dire chi te lo fa fare è di una gravità assoluta chi te lo fa fare di rappresentare con una funzione onoraria allo Stato di Israele chi te lo fa fare di difendere il diritto di Israele a esistere ma come si permette ma come si permette chi gli ha dato la legittimità di dire una cosa del genere ad un amico oltretutto il meraviglio che Carrai ma insomma evidentemente è troppo buono posso dire posso dire una cosa posso dire una cosa io credo che purtroppo cioè in questa fase siamo anche una fase preelettorale ci saranno le europee la odotto ci saranno le amministrative presso e via dicendo purtroppo c'è una parte una parte che mi ascolti e chi mi sta ascoltando sia chiaro di estrema sinistra che è interessante dal punto di vista elettorale e quindi c'è una parte di sinistra che non ne può fare a meno di questo scusa volevo finire il ragionamento per dire che la cosa preoccupante è proprio questo atteggiamento che diciamo appunto si mira a sinistra ma in realtà l'opinione del sì ma Israele sì ma è molto molto più diffusa di quanto non rappresenti quel coglione che ha intervenuto prima scusate il francese io vi vorrei far vedere non so se riesco a condividere anche io una foto che secondo me rappresenta bene non so se si vede aspetta forse forse riprovo così condividi lo schermo non lo posso fare ma aspetta sì sì te lo faccio condividere me lo fai fare aspetta aspetta Riccardo un attimo solo vediamo un po' secondo me questa foto rappresenta esattamente la situazione e quali sono le persone su cui noi dobbiamo con cui noi dobbiamo combattere ma non nel senso posso mettere un video no no una foto vai vai ancora mi dice vediamo un po' ecco condividi desktop vediamo un po' condividi apri preferenze il sistema boh non so se mi fa vedere zoom vediamo apri mamma mia che strazzo esce e riapri no no niente allora la foto non me la fa condividere comunque la foto è questa c'è il frate che è il priore della basilica di Staminiato a Monte a Firenze che abbraccia l'imam fiorentino mentre c'è accanto il rabbino capo della comunità ebraica fiorentina che guarda con fare sconcertato e accanto e accanto ancora abbiamo il sindaco sorridente anzi con un sorriso quasi metistofelico e la candelina in mano che ammira la scena questa è la scena e questa foto è stata scattata e pubblicata sui giornali e sui social al termine di una grande manifestazione per la pace che ha portato qualche centinaio forse qualche migliaio di persone da Firenze e lungo Lavarno su alla collina di San Mignato questo è il quadro che noi non possiamo accettare noi non possiamo accettare che il fratello musulmano si abbarbichi alla tonaca del frate e sotto gli sguardi benevoli del sindaco mentre il rabbino sconcertato guarda e tutti stanno lì a condannare Israele e questa è la di guida della chiesa cattolica ma non solo della chiesa celeste non solo della chiesa di una comunità che non reagisce abbastanza secondo me anche di un fratello musulmano che si è infilato dappertutto del sindaco che liscia il pelo a queste persone questa è diciamo il contesto nel quale bisogna agire e che bisogna in qualche modo rivaltare ecco questo volevo dire non ci spaventiamo tanto del provocatore che si è intrufolato tra di noi a discutere ci deve spaventare questo contesto più ampio nel quale non riusciamo a trovare il modo per scardinare questa alleanza diabolica che si è causata e le cose che dice celeste certo devono andare avanti forse lì si apre uno spazio però permettimi di essere un po' pessimista sull'approvazione della legge certo la presentazione del disegno di legge è già un passo avanti rispetto al passato non c'è dubbio ma noi dobbiamo continuare a gridare e possibilmente anche andare qualche volta in piazza oltre a vederci qui sullo schermo di un computer perché o anche in un piccolo in un non piccolo non tanto piccolo devo dire teatro al chiuso noi dobbiamo anche se siamo in dieci con qualche bandiera andare a manifestare fuori perché è l'unico modo per far capire alla gente che chi sostiene Israele al di là degli ebrei che molti di noi qui penso non siano ebrei lo fa per difendere tutti quanti per difendere la democrazia e la libertà di tutti come diceva il buon vecchio Lamarfa insomma e purtroppo adesso ci troviamo invece nella condizione di avere paura addirittura io ma infatti allora Riccardo sono per scusate grazie per questo tuo intervento che è stato assolutamente pertinente e non puoi che trovarmi d'accordo il senso e l'essere delle nostre associazioni è proprio quello di cercare di incidere in qualche modo nell'opinione pubblica da anni facciamo attività culturale da anni cerchiamo di interloquire in modo trasversale con qualsiasi tipo di politica il risultato oggi essere per noi per la nostra associazione essere almeno arrivati a vedere depositato per la prima volta in Italia un progetto di legge un disegno di legge dopo 70 anni sull'antisemitismo sul quale mi auguro ecco che almeno su questo visto che siamo ancora tanti collegati sullo zoom ci possiamo trovare d'accordo e possiamo veramente magari portare assieme una una battaglia sì vediamo la tua foto adesso l'hai messa in condivisione la vedete tutti e quindi anzi io lancerei a questo punto magari puoi togliere per favore la condivisione Riccardo ecco grazie direi a questo punto magari che potremmo anche lanciare l'idea di ritrovarci e di fare anche una manifestazione noi più consistente perché no Firenze parla anche di persona e organizzare e chiamarci un po' a corte perché appunto quello che manca che noi siamo siamo tanti siamo molto arrabbiati siamo molto anche rumorosi ma siamo nella società in questo momento una minoranza va detto una minoranza non silenziosa perché tutti quelli che erano qui dentro escono pubblicamente con articoli usciamo con la politica usciamo sulla stampa usciamo con la cultura a diversi livelli è una battaglia molto dura molto difficile che ci deve assolutamente trovare uniti per questa scusa prego posso dire solo una parola certo ti volevo parlare col signore innocenti e dirgli che io ho bisogno di quella legge perché quelle dieci persone con le bandiere di cui lei parlava attualmente hanno paura noi stiamo cercando di mettere su una mostra nel nostro piccolo gruppo i miei associati hanno paura una legge serve a questo non serve a far cambiare idea agli imbecilli come di prima non serve a contrastare chi pensa che essere sionista sia un delitto non serve a questo serve a poter non aver paura facendo quello che vogliamo fare scusa sono d'accordo non è che volevo assolutamente d'accordo va bene cari amici se volete posso riprovare a mandare il messaggio dell'ambasciatore non si sente credo ci sia un'altra mano alzata sai ah si è ok aspetta chi è che ce l'ha Thomas vai buonasera io faccio parte dell'associazione Italia Israele di Roma Capitale il fratello Marco giustamente veste una funzione molto indirizia e quindi fa rumore nella mia persona invece che sono un semplice cittadino italiano che insegna Grammaca sono stato fermato più forte perché sulla maglietta ho la bandiera di Israele e vengo sempre eh come dice accusato di appoggiare Israele spesso faccio attività in giro per l'Italia e a volte mi contestano anche visto che lascio l'attestato di partecipazione mi contestano la bandiera sull'attestato quindi anche nel nostro piccolo che non facciamo rumore veniamo molto spesso attaccati da individui dove dicono che noi appoggiamo io spesso non che mi nascondo perché non è una versione di nascondizio la mia però io insegno sia la difesa personale nata in Israele ma insegno soprattutto sport e lo sport non ha bandiere però la morale è questa sì è vero che chi sta in un vertice viene notata la cosa quanti come me subiscono le minacce intimidatorie poi gente come me ce la fa cavarsela e li zittisce come la persona di prima se ce l'avevo davanti l'avrei non perché voi non siete state capaci anzi perché parlava solo lui ha voluto la sua scena l'ha avuta però tante persone piccole come me ricevono non minacce però ricevono atteggiamenti intimidatori come dire tu sei la feccia del mondo sei un pro israele e quindi non devi non devi portare in giro questi colori e queste bandiere solo questo per farvi capire cosa c'è in giro allora grazie grazie per il tuo intervento Thomas bene io direi che è giunto il momento di salutarci sono le 22 e 33 è stata una uno zoom abbastanza movimentato comunque direi molto autentico molto vero che ci ha mostrato ancora una volta che ci costringe a decidere perché purtroppo va detto c'è un conflitto nel mondo che è un conflitto molto divisivo ed è vero è una guerra ed è una scelta che noi facciamo ogni giorno che rinnoviamo le nostre associazioni sono anzi lo sottolineo vengono tutte dalla società civile la maggior parte di noi non è neanche ebreo e questo direi anzi da un valore aggiunto alla alla lotta e alla difesa non solo di Israele ma perché riteniamo che la difesa di questi principi e di questi valori sia debbano essere un patrimonio condiviso a tutti i livelli e quindi niente vi lascio vi lascio un attimo con questo con questo tipo di considerazione e anche a riflettere meglio sulle scelte che dovremmo fare poi successivamente come associazioni sui prossimi passi concreti che dovremmo fare e sarà importante comunque rimanere uniti io vi saluto siete stati tanti siamo ancora più di 50 persone un abbraccio collettivo grazie di tutto ci rivediamo presso nei prossimi giorni per qualche altra iniziativa buona serata grazie buona serata grazie grazie ciao grazie buona serata grazie ciao buona serata a tutti ciao ciao ciao